A fine mese torna un grande rally storico, nasce dalle ceneri del Ciocco, si chiama Coppa delle Ville delle Colline Lucchesi, si snoderà sulla piana di Lucca tra Monte Carlo e Capandri, è stato organizzato da ACI Storico che ha organizzato anche una mostra a Chifenti. Ancora auto e motori d'epoca. Dopo lo strepitoso successo del passaggio delle Mille Miglia da Lucca e provincia, coordinato da ACI Lucca, l'Automobile Club insieme a DB Auto e nell'ambito delle attività di ACI Storico ha organizzato a passo nella storia, un nuovo appuntamento all'insegna dei motori e delle auto che hanno davvero segnato un'epoca. Un'incursione nell'officina di Dino Tomei a Chifenti con esposizione al pubblico dei curiosi e degli appassionati di oltre 30 modelli di auto storiche, esempi di design ed eleganza italiani e non solo, che occupano uno spazio privilegiato nel cuore di molti appassionati. Tra i tanti modelli in mostra ricordiamo anche una Lancia Fulvia GT del 1968, una Porsche 944 del 1984 e un'auto Union Munga degli anni 50.